Questa mostra che ho portato qua a Terni, queste mie donne che appunto porto in questa mostra, ruota attorno in particolare al numero 13, si chiama dentro il suo sogno 13 icons, e il 13 preso a simbolo come il numero di una femminilità nascosta, negata, tanto evidente quanto negata, il tredicesimo apposto, la forse dipinta da Leonardo, da Maria di Magdala, e alla fine dare un volto e restituire anche un corpo a questo femminile, un po' l'ultimo diaframma, il riconoscimento di una negazione. Il mio rapporto con il femminile le rappresento così, come vengono dalla terra appunto, Eva la prima donna, nella loro nudità, con un cuore tatuato nel petto, a ricordo di un'antica devozione anzitutto verso se stesse, una cura, un amore verso se stesse. Non tanto, come dire, rivendicativa, quanto di consolidamento e di rispetto che dobbiamo anzitutto a noi stesse e poi pretendere o chiedere anche al mondo che ci circonda.